La legge del 2004, la legge 6 del 2004, ha dato il là a un nuovo strumento di protezione giuridica denominato amministratore di sostegno, che rivolte il paradigma che c'era fino ad oggi, fino ad allora, che era quella semplicemente della inabilitazione o interdizione che prevedeva un tutore. Invece l'amministratore di sostegno è una persona che accompagna, che nel rispetto totale e assoluto dei bisogni e delle aspettative della persona, valorizza la persona con fragilità. Gli sta a fianco, lo accompagna ma non si sostituisce. Per creare una rete è necessario fare quello che in questi due anni e mezzo Liberi Legami ha iniziato a fare, andando sul territorio, sensibilizzando le persone, formando le persone, cercando di creare sia a livello associativo che a livello di volontari un momento di sintesi rispetto a quello che sono i bisogni e a quello che si può fare. L'importanza di questo seminario è anche quello di portare a conoscenza di tutta la realtà bergamasca, anche nelle realtà più piccole della nostra provincia, a conoscenza che esiste questa possibilità di avere un amministratore di sostegno, quindi una persona che aiuti la persona più fragile, disabile o anche ammalata. E questo soprattutto ci tengo a sottolinearlo, in quanto il mio settore, che è proprio quello delle politiche sociali e salute, ha particolare attenzione alle persone anziane e organizza dei corsi di formazione proprio per coloro che si interessano di questo problema.